Bella, stupenda, nonché sexy, quindi meravigliosa e apparsa così oggi nel salotto di Dominica in una bella Miriam Catania, che ha rivelato, diciamo così, il fatto che fin da piccolino aveva un debole per Piero Angela, era letteralmente innamorata. Ed ecco che proprio viene messo in collegamento il buon Piero Angela, classe 1928, che regala questo, chiamiamolo, messaggio proprio la stessa Miriam Catania e Miriam Leone, tanto che poi arriva addirittura il relativo cartonato. Insomma, sembra che la sorpresa sia piaciuta ed anche molto a Miriam Leone nel vedere il cartonato e il messaggio di Piero Angela, visto che è considerato che proprio da piccola ha disvelato, ha rivelato a zia Maravini, che era letteralmente innamorata di Piero Angela. L'uomo della cultura per eccellenza, così lo definisco simpaticamente parlando. Insomma, è stato un momento epico, bello, gradevole, ironico, piacevole quello di oggi, vissuto da Miriam Leone a Dominica in, da zia Maravini, la Maravina nazionale, la Marona, che ovviamente ha potuto apprezzare in primis la bellezza e la dolcezza di Miriam Leone, ma al tempo stesso anche la cultura degna di Piero Angela, una cultura degna di Lode. Detto ciò, grazie a tutti, il video termina qua. Nonostante, infatti, tanti anni, classe 1928, Piero Angela è ancora oggi un uomo, che è nel pieno delle facoltà mentali. E questa è una soddisfazione che va riconosciuta al buon Piero Angela. L'erandolo, l'erandolo di nome di tutto, grazie a tutti, iscriviti al calcio.